Noi abbiamo pubblicato una favola, è una cosa che non avevamo mai fatto, un'esperienza nuova, ci siamo incontrati con questa storia, una storia che nasce ed è molto radicata dentro Romena e ci sembrava bellissimo poterla pubblicare perché è un modo di raccontare il dolore, l'assenza, la vita che va oltre con il linguaggio delle favole parlando a bambini oppure ai bambini che sono grandi ma che dentro hanno sempre un cuore bambino. E allora quella favola legata al dito oggi riceve la sua benedizione ufficiale dalla gente di Romena, è qui Samuela Brunamonti che ha scritto questa favola. Ecco Samuela. Buonasera. E noi ascoltiamo dalla voce di Samuela come è nata questa favola perché la scritta sono motivi molto belli, molto poetici, ci stanno di incanto nel parlare di sentimenti e di amore. Così vai avanti. Buonasera a tutti, sono davvero molto emozionata perché ho raccontato tante volte la mia storia ma quando si scrive è un'altra cosa, attraverso la scrittura passano delle emozioni attraverso dei canali che secondo me sono davvero magici come le fiabe e quindi sono entrata tante volte in questo salone, in questa pieve, però riuscire a parlare a tutti voi attraverso un testo scritto è un'emozione davvero forte e ve la racconto un po' tutta questa storia. Mi è sempre piaciuto scrivere, infatti quando è nato mio figlio Daniele sopra la torta che abbiamo fatto per lui sempre un po' improvvisata ogni mese e mettevamo una matita, quindi qui aveva due mesi, poi quattro e poi sei sulla spiaggia con la prima frutta perché la torta non ce l'avevamo sulla spiaggia. Come ho già raccontato altre volte, quando Daniele aveva sei mesi e mezzo, una settimana dopo che abbiamo scattato con Davide, mio marito, e Daniele mio figlio, questa fotografia, Davide è stato investito mentre andava al lavoro ed è morto. E come ho detto altre volte, la storia poteva finire qui. E mentre invece ne è iniziata un'altra, quella è finita, ma ne è iniziata un'altra che ho avuto voglia da subito di raccontare, perché sono stata io la prima lettrice di questa storia, una lettrice che si è ritrovata di fronte ad una storia che non si aspettava, perché già mi immaginavo che cosa ci sarebbe stato il giorno dopo, il giorno dopo ancora un lutto di questo tipo. E invece è stata un'altra la storia che ho ascoltato dentro di me e che ho avuto voglia subito di raccontare a mio figlio, non attraverso una storia, ma attraverso la vita di tutti i giorni. Noi ci raccontiamo sempre più di quanto ci immaginiamo. Ho chiesto agli amici di mio marito di aiutarmi in questo, di trasmettere a mio figlio la voglia di andare avanti, di avere una storia bella da raccontare a Daniele. E quindi è nato questo progetto Mancio, questa associazione che costruisse a nome di mio marito una scuola in Africa. E con questa associazione siamo già venuti altri anni a Romena. Però mentre Coco, questo nostro amico di famiglia che veniva dalla Repubblica Democratica del Congo, ha raccontato a Daniele questa storia in cui altri bambini potevano vivere ascoltando anche la storia di suo padre e studiando con loro, io ho avuto voglia di raccontare questo a Daniele, appunto che la vita non ha una fine. Io e Daniele non ci siamo mai sentiti soli. E quando la foto di noi tre, questa foto è la foto che ho in casa perché appunto l'abbiamo scattata una settimana prima di questo evento, e è una foto che sentiamo ancora presente, questo babbo è sempre con noi. Non è qualcosa che sì, anche se lui dice che è in cielo, però cammina accanto a noi nella nostra quotidianità. Ma non lo so chi ha letto il libro quale messaggio davvero ha ricevuto. Il mio messaggio voleva essere quello che c'è sempre un qualcosa che va oltre la nostra quotidianità. Se noi ci lasciamo andare possiamo respirare la gioia anche laddove non ce l'aspettiamo. E quindi è nata questa, dicevo, questa fiaba e quando ho avuto l'opportunità di pubblicarla con la Fraternità di Romena si è chiuso proprio il cerchio perché Romena rappresenta per me... Ieri ho letto una frase di un fotografo, di Henri Bersong, che ha scritto che ciò che ci regala delle vere emozioni è quando ci viene regalato un supplemento di anima. Ecco, l'impressione quando si arriva a Romena, quando si vivono insieme a tutti voi queste giornate, è che Romena ci regala davvero un supplemento di anima. Da due anni abbiamo raccolto i pensieri che voi avete scritto ogni volta che vi siete avvicinati alla nostra storia e quindi non è possibile parlare sempre ad uno ad uno, però è bello quello che Romena mi ha regalato, non solo quello che io ho cercato con gli strumenti che avevo di regalare a Romena. Quindi è stato bellissimo poter pubblicare questo testo con la Fraternità. Quando io ho finito di scrivere la fiaba, l'ho fatta leggere ad una ceramista, Deborah Ciolli, e lei dopo pochi giorni mi ha detto non ho mai illustrato un libro, ma questo lo devo illustrare, perché mio nonno mi diceva sempre che i vivi danno sempre una manina a chi non è più vivo. E quindi questa fiaba mi ha suggerito qualche cosa dentro che non ti so spiegare bene. E dopo pochi giorni sono andata a casa sua e ho visto le ceramiche che aveva creato per illustrare questa fiaba. E quando ho visto la ceramica che rappresentava il bambino, quando l'ho presa in collo mi sembrava riprendere in collo mio figlio quando è nato, è stata un'emozione fortissima. Questa è Deborah Ciolli e Andrea Morelli ha fotografato le foto e vi faccio vedere velocemente come è stato costruito il libro, perché queste ceramiche sono state fotografate nel laboratorio di Deborah. Io guardo lì perché le foto ce le ho lì, eh? Nel laboratorio di Deborah e ogni pagina del libro che voi vedete non è stata costruita al computer, ma come vedete le ceramiche sono state appoggiate sopra un qualcosa di concreto, di reale, dei fogli di musica. Vedete, mentre il fotografo e la ceramista appoggiano le fotografie, il fatto che le mie emozioni diventassero qualcosa di concreto, come è la ceramica, perché viene dalla terra, dalle mani, dal fuoco, e come è anche il fatto di spostare queste ceramiche nel foglio, perché trovassero il punto giusto nel foglio, non attraverso il movimento di un mouse, ma attraverso le mani di due persone, è stata anche questa un'emozione forte. Quindi vedete appoggiare le ceramiche su della stoffa, su della carta, su delle coppette di gelato, su delle cialde anche vere di gelato, su queste piume gialle che hanno riempito la stanza perché svolazzavano dappertutto. E' stato davvero anche questo un lavoro che mi ha regalato tanto. E in una di queste pagine del libro ci sono dei disegni di Daniele per ricordarsi che la fiaba è nata per parlare a lui di quello che succedeva, ma come ha scritto Paola Zannone, la scrittrice che ha curato la postfazione di questa fiaba, ha scritto che è una fiaba che parla a sensibilità grandi e piccole. Ecco, il mio sogno è che davvero, come ha scritto l'editore che ho qui davanti a me... L'editore non mi aveva mai chiamato nessuno però, è Samuela. E devo dire che Massimo ha sempre fatto un po' il grosso, ha detto sì, bella, 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 però poi i tempi di Romena sono come i tempi di Dio. E quindi, ad un certo punto, a Natale, ho letto, senza che lui mi avesse avvisato prima, la recensione che lui aveva scritto alla fiaba in cui ha detto la frase... Ora no, è su due piedi. Rinnega anche. Ha detto, per la prima volta mi sono sentito... Ah, sì, è vero, è vero. No, ho detto che per la prima volta mi ero sentito un editore, cosa che, voglio dire, facendo i libri a Romena, mi sento proprio un artigiano, un piccolo artigiano di cose. E però in questo caso sì, era stato anche perché abbiamo partecipato a tutto il percorso creativo. Ecco, prima parlavo un attimo della bellezza. La bellezza nasce da questa cura, dalla cura di ogni pagina che oggi Samuela ci ha rappresentato. Però di essere editore me l'ho già scordato. Di essere già scordato. Appunto, quando... Questa è Paola Zannone. Paola Zannone, la scrittrice che appunto stava in quei giorni collaborando con la mia scuola, io insegno in una scuola media, e gli ho fatto leggere questa fiaba e anche lei dopo poche ore ha scritto la recensione che poi è diventata la postfazione del libro. Non so se... Ma quando viviamo esperienze vere nella nostra vita ce ne rendiamo conto perché sia che siano dolorose, sia che siano di gioia, sono semplici. Cioè arrivano in un modo naturale. Forse semplice non è la parola giusta. Ecco, io ho sentito che ogni singolo passo di questa fiaba, anche se è stato lunghissimo, perché poi per avere questo libro in mano davvero i tempi sono stati lunghi, però ogni singolo passo poi è stato un passo, come tutti i passi che noi facciamo, non ce ne rendiamo neanche conto, è stato naturale. E quindi ho capito che era la strada giusta. Vedo qui davanti a me Giosi Brunetti che ha curato invece la recensione che è stata scritta per il giornalino di Romena che voi avete già ricevuto di qualche mese fa. Ecco, anche quando ho letto la sua recensione ho sentito che il messaggio arrivava in un modo piano. Non so se riesco a spiegarmi, però certe volte noi ci affanniamo a fare andare un po' la vita come vorremmo noi. E invece la vita ci sorprende quando sentiamo che le cose stanno andando nel verso, non dico nel verso giusto, nel verso naturale, perché a volte insomma noi lo vorremmo quello giusto, non tanto quello naturale, diciamo la verità. Come ho sentito dire stamani, non siamo felici perché mia figlia è down, siamo felici perché abbiamo sentito questa felicità dentro. Ecco, e così dico io, non è che sono felice perché mio marito non lo posso toccare o vedere. Sono felice perché lo sento nella mia vita e vorrei trasmettere questo messaggio che quando qualche cosa ci manca dentro in qualche modo è dentro di noi, non soltanto un lutto. A volte ci mancano anche altri aspetti della vita. E un altro regalo che mi è stato fatto, sono andata alla presentazione di un ciclo di poesie di Roberto Piumini che è uno dei più grandi scrittori per bambini e allora ho fatto come fanno un po' tutti i fan. Gli ho messo il libro sotto il naso, infatti l'ho fotografato mentre faceva gli autografi dei suoi libri e sotto c'è il mio libro. E poi un po' come una ragazzina gli ho scritto qualche giorno dopo dicendo ma non so se si ricorda, io gli avevo messo un libro sotto il naso e lui mi ha scritto una mail lunga da cui ho estratto qualche frase che anche lì mi ha lasciato sorpresa perché non mi sarei aspettata una risposta da uno scrittore così famoso. E lui ha scritto che questa fiaba è una piccola storia di sapienza, un lento richiamo a voce bassa, molto vicino all'orecchio del bambino e del grande che legge e ascolta. È una scatola di pausa e silenzio per le emozioni, un tutto insieme di parole, carta, ceramica, forme, cibo, colori, giocattoli, che rimanda ad un altro tutto insieme, lontano e presente, un patto tra chi c'è, ci sarà, ci fu e ci può essere. Grazie del dono e un saluto con affetto, Roberto Piumini. È stato davvero un regalo e per giorni ho messo questo salvaschermo nel telefono e l'ho fatto leggere a tutti come una bambina che ha il suo primo giocattolo. Ecco, ora lascio la parola al mio editore perché se no mi picchia e poi vi racconto solo velocemente che cosa con i soldi che stiamo raccogliendo perché anche i diritti d'autore di questo testo andranno al progetto legato alla scuola in Africa per mio marito. Mi è fatto molto piacere avere un po' questo quadro di insieme, neanche io ne ero molto consapevole soprattutto di come avete messo insieme il tutto. La storia è delicatissima, bellissima, mi è piaciuta fin dal primo momento in cui l'ho letta e sono veramente fiero che Romena l'abbia pubblicata. Mi chiedo, ma il bambino tra poco la leggerà? Quanto manca ora? Che possa leggerla direttamente lui? Non è aggiornato questo ragazzo. Non è aggiornato questo editore. L'ha letta? Perché Daniele, io sono insegnante quindi non lo dovrei dire se no mi dicono eh, li hai insegnato te, li hai messo le parole sott'occhio te. Nel libro si dice che questa fata mamma guida il bambino mentre il bambino dà un bacino sull'indice e scorrendo sul foglio completa la magia. quindi quando ho scritto questa fiaba Daniele faceva in questo modo per leggere i libri dava un bacino al suo dito e lo faceva scorrere mentre io li leggevo ad alta voce. E una mattina ho salutato qui il pubblico di Romena dicendo che nella vita sarebbe bello far così prima di leggere la nostra vita quello che abbiamo dentro di pensare ad un bacio. Ecco, adesso quando la storia è diventata un libro ho voluto che questa storia la potesse leggere avendo un libro sotto le mani e quindi l'ha letta a dicembre. Quanti anni ha? Dicevo, sì scusami allora Daniele ha cinque anni e mezzo e dice mi sono persa scusate lui ha imparato a leggere e a scrivere già da un po' di tempo infatti mi sarebbe piaciuto mantenerlo più a lungo all'asilo però è diventato già un po' troppo noioso con queste lettere e quando è arrivato il libro nella dedica c'era scritto le persone che non vediamo più continuano a vivere le nostre fiabe di ogni giorno ma questo ogni bambino grande o piccolo lo sa già e allora mi sono fermata e gli ho detto ma noi ce l'abbiamo qualche persona che non vediamo più? Eh sì però la nostra preferita è Babbo è così e la cosa è la cosa particolare che quando l'abbiamo presentato nella nostra realtà dell'associazione affollonica questo è Daniele il giorno della presentazione lui ha capito che questo bambino parlava un po' tanto di lui infatti andava in giro dicendo mi assomiglia ma non sono io mi assomiglia ma non sono io bene io direi a questo punto se ci puoi aggiornare perché noi questa scuola insomma l'abbiamo fatta crescere negli anni anche grazie al contributo di ciascuno di voi partecipando al mercatino che l'associazione di Samuele ha portato avanti anche quest'anno è presente qui a Romena allora a che punto siamo? Siamo a buon punto allora vi faccio vedere qualche foto questo è il si diceva appunto che i diritti d'autore sono stati dedicati sia da parte mia che da parte della ceramista a questo progetto in questo progetto la parte più importante è stata di portare l'acqua in questo villaggio a Boko nella Repubblica Democratica del Congo non avevano l'acqua e quindi è stato l'elemento che ha cambiato di più la loro vita e questa associazione sta andando avanti e oltre a costruire mi è piaciuto mettere nelle diapositive le foto in parallelo perché quello che stiamo pensando in questi giorni che oltre a costruire la scuola in Africa qui vediamo una riunione in Africa una riunione in Italia stiamo costruendo noi stessi stiamo costruendo dentro di noi l'idea forte che questo ritrovarsi insieme per costruire questa scuola è un costruire un messaggio bello dentro di noi quindi da una parte loro edificano la scuola e dall'altra noi attraverso le relazioni anche con Ia Romena costruiamo qualcosa di bello dentro di noi loro raccolgono il carbone con i fondi che noi abbiamo mandato abbiamo acquistato una parte di foresta per poter avviare questa produzione del carbone e noi raccogliamo la nostra amicizia e la frase che io avevo scritto la vita a un fine non una fine rappresenta le fondamenta di quello che stiamo costruendo dentro di noi come le fondamenta vera rappresentano appunto quello che loro stanno costruendo in Africa stanno completando qui vedete la struttura della copertura del tetto ma mi piace farvi vedere a ritroso che per arrivare alla copertura tagliare il legname loro come vedete devono andare nel bosco e tagliare questi alberi in queste condizioni che a noi sembrano davvero molto incredibili ma la scelta dell'associazione è stata di far lavorare loro perché sentissero un forte senso di appartenenza a questa scuola e anche riuscissero a tirar fuori le loro le loro abilità e se mi permetti lascio la parola due parole veloci al più giovane dell'associazione al nostro Tommaso vieni Tommaso mi conoscete mi chiamo Tommaso e sono amico di Daniele da quando è nato anche se sono un giovanotto ormai e lui è piccino a soli cinque anni ora Daniele vedete la foto no aspetta si diverte con la sua mamma a fare il volontario tosangana qui prepara delle bombognere solidali per un battesimo sono qui perché Daniele ha espresso un desiderio abbiamo preparato dei segnalibri per il libro scritto da Samuela eccolo Daniele ha detto mamma lo diamo a tutto il mondo allora io che sono il cassiere dell'associazione gli ho promesso che sarei venuto qui per iniziare questa diffusione mondiale che ne dite ho sempre detto che rinuncio a belle giornate di mare per venire qui ma non è proprio vero è bello stare insieme a voi che ci avete sempre fatto sentire importanti comunque vi aspetto alla cassa grazie lui lui è il nostro volontario più giovane alcuni siamo venuti qui altri sono a casa ma ci piaceva sia mettere Daniele come segnalibro della storia che in qualche modo è stata da lui ispirata perché è la storia di un ragazzino che se ne va a spasso per il mondo con il dito indice alzato e nessuno sa perché lo fa fino a che un bambino non fa la cosa più naturale del mondo e glielo chiede perché te vai a giro in questo modo e gli darà la risposta e quindi ci piaceva un segnalibro e poi abbiamo fatto questa calamita con scritto le storie sono un abbraccio perché ho finito di leggere un libro nati due volte di Pontigia che finisce con questa domanda ma se la mia vita fosse un'altra se dico io Davide non fosse morto e Pontigia dà questa risposta possiamo rinunciare a tutto immaginare tutto ma non possiamo rinunciare alla nostra vita perché è nostra e allora credo che Romena sia qui per questo perché nessuno di noi vuole rinunciare anche alle parti più brutte della nostra vita le vogliamo abbracciare e le storie sono davvero un abbraccio e spero davvero con questa storia di abbracciarvi grazie questa copia magari mentre scendi la consegnerai al nostro ospite che salirà qui tra poco che ti ha ascoltato con tanta attenzione il primo giorno abbiamo venduto 300 copie quando l'abbiamo presentato nella nostra comunità diciamo così a Follonica e sono riuscita a fare lo posso dire 300 dediche diverse bene